ciao a tutti e bentornati al mio canale sebbene vi ricordate qualche video fa abbiamo parlato di come eliminare in modo insomma permanente sicuro un file dal computer quando è previamente sensibile quindi che si tratta di un documento o di qualsiasi file che sia sensibile abbiamo parlato del programma se vi ricordate lo shredder che serve appunto ad eliminare in maniera permanente un file quindi rendendo a qualsiasi persona con qualsiasi software impossibile il suo recupero oggi invece il video è al contrario quindi se invece vogliamo noi recuperare qualche cosa che accidentalmente abbiamo eliminato cosa dobbiamo fare come ci dobbiamo comportare allora piccola parentesi ovviamente io se faccio prima un video di come eliminare per sempre un file in maniera permanente ovviamente inutile che vi sto a dire che il file se utilizzate quel tipo di programma quindi parliamo del modo shredder il modo file ovviamente non può essere più recuperato con qualsiasi software sennò abbiamo preso tutti in giro col precedente video quindi se voi per sbaglio andate eliminare un file con il programma che vi ho consigliato io ripeto shredder non può più essere recuperato con qualsiasi file quindi attenzione questa piccola parentesi attenzione a quando eliminare i file e come che programma utilizziamo per eliminare i file se invece abbiamo utilizzato la classica utility di windows quindi che fornisce windows il classico cestino tasso destro elimina sposta sul cestino e accidentalmente abbiamo capito e quel file invece serve che programma dobbiamo andare utilizzare per ripristinare questo file quindi riprenderlo di nuovo ad averlo pronto in uso del nostro pc prende ne esistono tanti di programmi ovviamente programmi insomma che permettono questo tipo di lavoro quasi sempre sono a pagamento perché comunque permettono qualche cosetta in più rispetto al programma free però vi devo dire che ce ne sono alcuni free che sono veramente ottimi oggi però ne andremo a vedere solo uno come programma free ovviamente non so a parlare di altri programmi che ritengo che siano veramente veramente basilari in versione free e anche quando a pagamento non non li consiglio almeno io perché insomma provandoli non hanno recuperato file cancellati ma hanno soltanto recuperato magari immagini e video che già erano all'interno del pc e magari noi ci siamo dimenticati di averli in quel tipo di cartelle in quella partizione di hard disk che magari sembravano nuovi perché magari proprio abbiamo dimenticato che esistevano quelle fotografie sembrano appena recuperata sono programmi veramente che lavorano in maniera sì insomma semplice e intuitiva tutto quello che vogliamo però sono veramente programmi oserei dire scolastici proprio per bambini insomma vedi programmi come tutti utilizzano il recuva vedi programmi come l'ias insomma ce ne sono vari tipi come programmi di recupera anche lo stellar insomma ce ne sono tanti tipi però oggi abbiamo detto che ne parleremo di un altro programma che è sempre open source quindi free totalmente free però ovviamente esteticamente ne paga un po perché esteticamente come se lavorassimo nel dos quindi può risultare un pochettino complicato l'utilizzo ma vi posso dire che è un programma veramente veramente ottimo perché va a recuperare tutto quello che abbiamo eliminato sia nel cestino ma va a recuperare anche tutto quello che abbiamo guardato noi che vi posso dire sui nostri browser di internet di va a recuperare proprio ogni singolo pezzo di ogni singola partizione quindi è un programma davvero fantastico se vi interessa andare a recuperare qualsiasi tipo di fotografia video immagine insomma word rar tutti gli archivi lui li può recuperare tutti i tipi di estensioni possibile immaginabili quindi vedremo insieme l'utilizzo di questo programma non vi preoccupate se può sembrare complicato perché basta seguire questi semplici passaggi credo insomma che un programma si esteticamente è meglio quando sia molto intuitivo però quando il programma è bello esteticamente intuitivo però non fa secondo me bene il suo lavoro è inutile anche andare a scaricare perché comunque se non fa bene il suo lavoro trovo insomma che il programma meglio magari che abbia una grafica molto più complicata però che fa effettivamente che porti a termine il lavoro per cui l'abbiamo installato quindi il tempo di spostare l'inquadratura e vediamo insieme questo programma quale perfetto allora per andare a scaricare questo programma lo andiamo a reperire su una pagina di internet scrivendo nella barra in alto test disk oppure potete anche cercare photo rec io scriverò test disk perfetto andiamo a cliccare su test disk download il programmino qua chiudiamo tutto quello che non interessa il programmino da andare a scaricare qua dove c'è scritto test disk versione 7.2 free download clicchiamo chiudiamo sempre le pubblicità e qui vedete che è comparso il download quindi attendiamo che finisca il download perfetto appena finito il download in questo caso io non farò apri file perché già vedo che un file rar quindi diciamo ripassiamo anche come decriptare i file che scarichiamo da internet che non fa mai male chiudiamo la pagina di internet perfetto il file appena scaricato e questo file rar abbiamo detto che è un file compresso quindi va estrapolato nel desktop facendo il doppio clic e tirando fuori sul desktop il programma ha finito l'estrapolazione possiamo chiudere il tutto questo file non servirà più il rar possiamo cestinarlo perché l'ha scompattato su questa cartella quindi questo effettivamente all'interno noi troveremo il programma quindi in questo caso doppio clic perfetto in tutta questa confusione di file non dobbiamo andare a trovare l'applicazione quindi quello che è chiamato applicazione per intenderci andiamo giù e come potete vedere qua abbiamo i due programmini famosi abbiamo il photo rec e poi abbiamo il classico test disc entrambi sempre servono per recuperare tutto quello che abbiamo perso in questo caso il test disc in più ripara anche i settori danneggiati parente dell'hard disk quindi ripara anche le partizioni che si sono danneggiata nel vostro hard disk o ssd perché ricordiamoci che questo programma riesce a recuperare non solo da hard disk meccanici ma recupera anche da ssd recupera anche da pendrive recupera anche da qualsiasi altro tipo di archiviazione usb quindi tutto quello che in archivia in archiviazione usb lui riesce a recuperare il tutto quindi in questo caso dalla cartellina appena scaricata noi faremo dopo clic su photo rec trattino win diamo sì si aprirà questa finestrella quindi in questo caso dietro possiamo andare a chiudere quello che non interessa perfetto allora qua facciamo finta che come se noi stiamo lavorando sul dos però non vi preoccupate se è differente ovviamente da altri tipi di programmi perché abbiamo detto l'estetica si è meglio averla effettivamente un programma molto bello di estetica e molto funzionale però se non fa bene il suo lavoro in ultima andarla a scaricare quindi prende in alto qui dove c'è questa barra bianca prende e dove andate a settare l'hard disk quindi in questo caso hard disk esterni qua non ce ne sono c'è soltanto l'hard disk interno di questo computer che ho 1024 giro quindi un terra per intenderci ed è un vdc quindi un western digital quindi da tutte le informazioni dell'hard disk se vuoi magari in questo stesso computer mettevate una pendrive un hard disk e qua sotto continuava con dische 1 disk 2 continuava con la lista dando il nome per esempio della kingston pendrive oppure di un hard disk toshiba quello che sia quindi dove voi volete recuperare i file dovete andare a scegliere prende e barrarlo con la striscia bianca con le freccette questo programma funziona molto con le freccette della tastiera quindi non col mouse per questo potrebbe risultare un po complicato però basta che seguite la guida e sicuramente verrà semplice vedete che qua io con le frecce posso fare lo switch fa proceed e kit se metto kit ovviamente chiudere il programma con invio ma non interessa invece andare a salvare quello che abbiamo perso andare a recuperare quello che abbiamo perso quindi in questo caso io farò proceed invio perfetto in questo campo di qui voi dovete sempre andare a mettere se non siete sicuri della vostra partizione quindi la partizione che sia efi e wifi che sia windows recovery se non siete sicuri voi andate a scegliere sempre semplicemente l'annone quindi che non conoscete qual è la partizione e lui metterà incannato l'intero hard disk quindi il classico un terra di hard disk non metterà gli ispezioni delle partizioni quindi magari rischiando che voi pensate di andare a recuperare dati in c e invece magari li avete conservati in di quelli che avete cancellato quindi in questo caso noi con l'annone andiamo a settare l'intero hard disk quindi tutte le partizioni l'intera disk perfetto sotto invece noi su search option file opt e kit la prima cosa che dobbiamo andare a fare è recarci su file opt perché qui andiamo a decidere che tipo di file vogliamo noi recuperare quindi diamo un invio perfetto e qua vi dicevo prima il programma cosa è in grado di andare a recuperare quindi recupera i file zippati per esempio sette zippe e recupererà i file rar recupera i file audio file mkv recupererà molti file se andate giù con le frecce potete vedere quanti e quanti file sono messi in ordine alfabetico possiamo recuperare quindi se noi vogliamo recuperare un po di tutto basta prende cliccare con la x il tutto è presente noi andremo a cercare insomma tutto quello che abbiamo perso nel computer però non ve lo consiglio mai perché sinceramente andremo a riempire talmente tanto l'hard disk di cose a noi non interessano se non interessa recuperare la foto io non andrò a mettere mai video in rar un zip file zippati o documenti world perché a me interessa solo recuperare una foto quindi ammettiamo che noi dobbiamo andare a recuperare appunto una foto che noi abbiamo scattato magari che eravamo in viaggio e l'abbiamo per accentualmente eliminata in questo caso la foto abbiamo detto che ha un formato jpeg quindi noi dobbiamo andare a cercare qui la voce jpeg h i sono messi in ordine alfabetica e qua abbiamo il formato jpeg per esempio il jpeg è già con la x e quindi significa che lui mi andrà a trovare in questo senso tutte le immagini jpeg se per esempio oltre al jpeg voglio cercare qualche video in questo caso per esempio me ne vado nella voce video quindi l'estensione del video ovviamente sarà mkv che potrebbe essere un matrosco quindi il classico blu ray è evidenzio con la x della tastiera possa andare a cercare per esempio anche un mob posso andare a cercare per esempio anche alla musica mp3 quindi metto la x quindi tutto quello che mi interessa io lo fleggo prende con la x della tastiera ricordiamoci possiamo soltanto muoverci all'interno essendo diciamo fra virgolette un finto dos soltanto con la tastiera quindi il mouse viene completamente tralasciato in questo caso una volta che noi abbiamo messo le x sul materiale che vogliamo andare a ripristinare dobbiamo fare soltanto per cliccare sulla b quindi prende per intenderci la bd to save the setting quindi salviamo il settaggio che abbiamo dato clicchiamo b nella tastiera e cliccheremo di una la tastiera ok l'unica cosa che potremmo fare perfetto possiamo andare a cliccare dove già è scritto kit un altro colpo di invio perfetto il programma in questo caso già è pronta e settato per andare a recuperare tutto l'impossibile che abbiamo detto noi di recuperare quindi avete capito bene che comunque non è simile a quei programmi che ci sono ovviamente frio al pagamento che sono ovviamente veramente semplici andare utilizzare però ahimè peccano per il recupero dei file lo sono veramente molto semplici nel recupero dei file c'è tolto veramente se andate a fare la prova da eliminare una fotografia e immediatamente fate il recupero col programma non recupero un bel niente in questo caso questo vi verrà credo complicato oppure un pochettino complicato però basta seguire il video e utilizzarlo spesso anche come prova è veramente lo troverete un programma che poi non ne potete più farà meno come recupero file in questo caso quindi non rimane altro che andare a cliccare su search invio lasciamo tutto per com'è da ora in poi quindi adder va bene ader invio qua andiamo a cliccare praticamente vi consiglio sempre la partizione che ha sempre più numeretti possibili quindi in questo caso per esempio quello che porta più numeretti questo porterà la vocina di 0 40 220 18 mila noi andremo a cliccare quello per sempre che non abbia di più quindi è il 9 no è il 7 97 89 61 quindi andiamo a cliccare sempre quella con più file disponibili in questo caso sarà 7 dicembre 2021 per esempio come data e qui non rimane altro che andare a cliccare la vocina y che sarebbe yes perfetto è pronto il programma già sta lavorando come vedete qua lui va in pochissimi secondi a recuperare tutti i falli che non abbiamo chiesto di andare a recuperare quindi in questo caso sono passati soltanto pochissimi secondi e lui già per esempio ha trovato quasi 700 file dirà che anzi sono passati qua avete il tempo che è passato 20 secondi già hanno trovato 850 per finire tutto questo processo lui ne richiederà di tempo su per giù un'ora e mezza ma come vedete scende anche di tre minuti possa dire di un minuto può scendere di quattro minuti quindi su per giù atteniamoci al tempo che sia quello di un'ora e mezza per recuperare questo tipo di fare già avete ben visto che già ha recuperato un mille e quattro di file ammettiamo che io ho finito le affine tutto il processo prende cliccherò su stop sempre con invio perché già lo stop è bianco e fleggato lui ha finito mi dirà la di rispondere con gli s se voglio realmente chiude ovviamente noi andiamo a cliccare di nuovo y per chiudere di nuovo invio perché messo su kit significa chiudi perfetto ci spostiamo tutto sulla destra facciamo kit invio chiudiamo il programma di nuovo destra invio chiudiamo il programma il chiuso lui va a mettere tutta questa quantità di file nella cartellina dove noi abbiamo scaricato il programma un test dischi se io clicco dentro e vedo qua le cartelline che lui mi ha creato quindi il recupero directory una recupero directory 2 all'interno se vado all'interno ovviamente io non approverò non aprirò il file perché all'interno ci saranno dei file recuperati quindi qua dentro in queste cartelline che mano a mano lui va salvando file va recuperando file andranno in numerazione quindi in aumento quindi 567 all'interno troveremo per esempio 300 file di fotografie è un tocco di video quindi all'interno di queste cartelle dove c'è scritto il recupero directory voi troverete tutto quello che avete accidentalmente eliminato dal vostro computer quindi presente questo è l'utilizzo di fotorec oppure test disc ripeto sempre che si allontana moltissimo dai programmi esteticamente belli molto molto semplici quindi addirittura programmi che farebbero anche per voi insomma per gente che non sa utilizzare ancora bene il computer e figuriamoci i software questi recuperi che potrebbero risultare complicati però bisogna scegliere fra in questo caso fra un software veramente semplice perché basta cliccare avanti scegliere immagini e magari non jpeg quindi già qua bisogna capire l'estensione quale dell'immagine perché se noi dobbiamo recuperare immagini magari in questo programmino se capire che l'immagine ha un formato jpeg che il video ha un formato mkv mob mp4 sono tutti i formati video quindi in questo caso potrebbe risultare un pochino più complicato però vi assicuro che se un video un'immagine o un documento a cui voi tenete veramente centralmente avete eliminato avete già provato perché provate sempre avete già provato con dei programmi gratuiti che non hanno permesso il recupero diciamo soffrite quel pochino con questo programma però vedendo il video vi verrà veramente semplice capirlo e vedete se riuscirete a recuperare quel file che altri programmi free veramente belli esteticamente invece non sono riusciti a farvi recuperare detto ciò vi saluto sempre al prossimo video ciao a tutti